Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con Gianmarco Io la parlo del cavolo del tuo cazzo Dai, dai Ma sai che ti vedai? Siamo qui con GTA 5 online Ma non è Falkrai? No, noi andiamo via Devi alzare il volume Come lo alzare? Potete dire zero visualizzazioni Bravo, siamo qui Io ti dico che c'è il killer ragazzi C'è una taglia La 3.000 euro 3.000 lire C'è poi il 4.6 dentro la macchina Ma che bella grafica In HD ragazzi Stiamo scherzando Non c'è Non c'è Ma l'ha pagato Oddio No, André André Oddio Ma è tutto un bug No, no ragazzi No, no scusa C'è pure tu non c'è un'arma carica Poi ti vai mettere le taglie Che un bichione Dai, ti faccio prendere i soldi No, no, no E vai, fenomeno No, ora gioco io No, un Archibus Devo fare lo YouTube Fammi prendere No, dai Dai, ma se non è possibile Non stai scherzando C'è Mettiti di qua Ah bene, almeno No, ma non ho l'arma Eh C'è pure Come si la ammazza Ma c'è il caffè C'è la mazza da baseball Tecnologia Ma guarda che grafica È rimasto al DS Con bella macchina Che cazzo che dite E ancora Mamma, aspetti Ci voglio in un video Sottate vengono a toni qua Dai, dai Olè Olè Guardalo Ma perché fai stai Guarda il ciccione Uccidilo Uccidi Uccidi Fai, collascia Collascia Oh Sì Sì, bello Ma anche la No Questa 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 La ragazza Ti ha lasciata Vergine Scusa Aspetta Eh Oh Provare le scarpe Oh Ecco la carnale Grande Grande Stronzi Bello Uccidilo Eh sì No Uccidilo Vai di là 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 Hai messo male la risoluzione Già Ma fa cagare Veramente No No Guarda Hai tagliato Perché fai stai No Devi andare Allora Prenditi il telecomando della TV E vai su risoluzione Ma che mania è Già la contrata Quell'altra Quell'altra Perché le comprimenti Tutti i soldi Lo suono Al massimo Non c'è un colpo Al massimo Passa Metti la torccia La torccia La torccia La torccia A quello Torccia Oh Oh Contrare Guarda i tuoi soldi Come se ne vanno No Cazzo Ma rinanciarazzi Rinanciarazzi Questo qua è pepia Vai 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 Metti le colorazioni Le colorazioni Fammi a piaccio Fammi a piaccio Che sei questa Vabbè Compri un momento Vai sull'alciarazzi No Ma Vai sull'alciarazzi Metti i colori Colori No No Rosa Vai con rosa Andata Prendi questo vai Basta Ma Dai Guarda i tuoi soldi Come se ne state andando Ho giunto un cazzo No Esatto No Mi sono I pezzi Mi fanno Sei Il mitra Dobbiamo prendere il mitra Dai basta Basta Se no poi Bombe acqua Eh Bomba di sì Vabbè Non ce l'ho Senti Vai Andata Perché Pertemente Si può Vedersi Davvero Mamma mia E' Da mezza Baco Allora Adesso Le panno Ma C'è La mia Ma Dove La paviranno Questa è La tua Macchina Da adesso L'ambulanza No L'ambulanza Devi andare Signore Che Bella Vabbè L'ambulanza Eccolo Il romeno Non capire Non capire La parola Non capire La parola Avete Perciò E Non capire La parola Non capire Di come Ragazzi E' arrivato Un amico Di Giammarco Detto Nicolas E' Il mondo Coglione L'hai vista Questa figata L'hai vista Questa figata Tu L'hai vista Questa figata L'hai vista Perché ti ha mirato L'hai vista L'hai vista Lanciarazzi Devi andare No Quello Perfanto Che Va bene Che Unizioti Che Apecciano Quello L'hai sparato Nel culo Ancora Il pelico Guarda E' bella La storia Felicita Oh A me di questa Questa figata Ma come corre I soldi Non fanno La felicità Fanno La morte E' 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 Sì Ha ragione Ha ragione C'è La penso Come te Perché non è collegato Io No Adaci Dove ho io Ha perso il tango Tu stai Eh andiamo Adesso mi prendo la legge C'è 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 Sobri Dove stai E' Che stai In parte mia virgolata In cielo Che vuole PAN PAPAN PAPAPAPAPA perché... no, mi uccido oh, oh, guarda schifo ragazzi bella pucca ma cosa hai male qua? guarda, caso mi cazzo mi pare scusa scusa me lo annusa ma sei nero? cioè, no, spiegami questa mentalità io sto sentendo voi due che parlate a che ti servono le cuffie? Ma che dici? Mi sento io doppiato Perché tu stai parlando online con l'altra gente? Io non mi sento però a casa mia Ok, ok, ecco il primo embranato E vuole salutare Prima c'era uno che volava Stava sopra la mia vita C'è un'entrata al negozio di armi e non c'era un'altra Lui non aveva neanche una punizione Non funziona Oh quella è la pio Non c'era tutti i soldi per si fa Te credo c'era due pistole La midragietta, quella iniziale Quanti soldi c'era lì? Un fucile d'assalto e un fucile a pompa terrabbino 821 dollari Ma ce la prendi un'arma a mazzare qualcuno 820 mila Ah cazzo grazie Cioè voi stai spiegando proprio questa armi A me mi hanno dato 200 milioni Dove fa' sta cazzo A me 940 milioni Quanto? Lasciano due 351 All'inizio All'inizio E' una nuova felle L'elezione fa lunghiere Sì ma io non l'avevo fatta assolutamente Un bug Cos'è? No ma gli toglievano direttamente A tutti quelli che hanno ricevuto i soldi tagliati Scusa Ma che stai chiamando tu? Ma che stai chiamando tu? E' vagato No ti stai modando la passione No ti stai modando la passione Non stai modando la passione Perchè modando la passione? Perchè? Vai Perchè? 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 ma ce l'ha infinita in pratica ma ce l'ha la milassistita no 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 infatti ce l'hai il granato cioè la milassistita è quella che ti punta già che devi sparare eh ma lui il granato non vale si ma io prima non lo savo più niente si ma fa schifo aspetta allora si ma comunque riusciva a uccidere le persone ma è diversa la città da GTA no non è diversa si è diversa che è meno tutto il colore no se non è più diversa no si aspetta qual'era quel pancchiera col bambino ah è questo e vedete se c'è ancora quello l'ho questo si quello quelli di questi ricorrenti qua a parte adesso andiamo a farci un taglio nuovo si no fa cagare quello di adesso ragazzi c'è Brannino Orlando c'è Brannino Orlando c'è Brannino Orlando c'è Brannino c'è Brannino c'è Brannino c'è Brannino c'è Brannino due pistole qua l'Italia sta vicino e sta cucinando da quali c'è questo? c'è Brannino c'è Brannino ah no però guarda però perché si ma tu ma no che figa vai c'è oh bam c'è Brannino c'è Brannino c'è Brannino non mi faccia arrestare ti lavano tutte le munizioni ma vai non ci vanno non ci vanno ti ammazzano se te stai fermo ti sarmiamo no dai scusa ma non li ha ammazzati no non c'è adesso si scusa c'è Brannino c'è Brannino attenzione tenta la fuga con la minicar invece è una dipendente bene no no cioè le sepi sono più ma perché non spara? perché non ho la mia assistita no questa dico ah cioè con questa devi pure fare R1 tanto è complicato su PlayStation 3 vabbè spara solo con R1 vabbè spara solo con R1 ma perché spara il cazzo di cavo spara? guarda che figata c'è il mistero c'è il rossa e il blu ogni volta che vieni in visita dai dai scusa è tutto un bug esci e vai nero ok ragazzi direi Gianzi Gianmarco dai tu la via e poi al prossimo video ci vediamo ragazzi dal prossimo del tazzetto ci vediamo al prossimo ci vediamo ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo 100 like Giammino 100 like Giammino il porchettaro vi saluta da Maiana e Giammi Cacolina a bella a tutti ragazzi che significa?